La nuova Caledonia dice no all'indipendenza dalla Francia. A 165 anni dalla colonizzazione, la collettività francese d'oltremare a est dell'Australia ha deciso di restare con Parigi. Un risultato del resto ampiamente indicato dai sondaggi precedenti referendum, che ha anche registrato un'affluenza straordinaria già a poche ore dall'apertura dei seggi, il 3 novembre, le 22 ore italiane. Il no era poi già chiaro quando a inizio degli spogli due terzi degli elettori in tutto circa 174.000 avevano espresso la preferenza. L'affluenza ha raggiunto il 79,8% sugli eventi diritto, il 56,8% infine ha detto no.